dai un golo sparo la fossa in furio ok ragazzi inizia così il video oggi sarà un giro tranquillo un giro easy diciamo classico come uno dei tanti oggi ci sarà un altro ospite con noi quella del primo video quella che faceva le impennate benzina fatta motore caldo ruote calde la prende interna fa un attimo sorpasso oggi lo vede molto accasato molto pazzarello che bella ne è passato di tempo da quando eravamo usciti assieme a lui per il mio primo video sono cambiate tante cose forca traia Forca draia Forca draia A few moments later Forca draia Sì, si, io Che si è posto che questo? Io sì Caviglia Si. Sei riuscito a schivarmi se lo ho fai senza te No no, ero un bel pezzo indietro Ah però ma quant'è che era buono? 30-40 secondo me secondo me sei 30-40 una volta buono sento di più si è finita la freccia non lo scarico come lo vuoi e ci metti solo a sfondare si si siamo andati a 50 lì perchè? ma perchè funziona? eh non lo so a chi fare siamo qua via nice figo un miracolo tornato a biazzo sulla moto si veramente domani nevica ma vattene la f***** dovevi interagire il mare le persone per farlo insieme ha detto? si si zio è rosso c'è il semaforo p***** che cazzo inizia ci provo all'interno a biazzoni ma Paganotto va all'esterno arriva al sorpasso ma c'è l'incrocio di traiettoria Paganotto va all'esterno ma non si può superare qui non si può accelera il Duke 125 rimane un po' fermo Paganotto deve stare dietro prende tutta la scia si accoda romba la moto romba figa senti che su ma non sta bene che va di nuovo all'attacca di nuovo ruota ruota di nuovo ruota ruota dall'Austria non si mollano più lo svernicia così all'esterno prende posizione i suoi piassoni ma eccolo subito all'esterno di Paganotto che non ci sta adesso provano ad attaccarlo infatti è qui infatti è qui il m***a questo è proprio un sorpasso azzardato inchiudata che salva la vita salva la multa ciao no stai registrando che cazzo di youtuber di m***a prova all'esterno a Piazzoni ma non passa via sono in spenda posizione siamo a Cristiano ma non ci siamo bravi ciao 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 ciao